La seduta del 10 dicembre In apertura di seduta il Consiglio regionale ha ricordato la figura dell'ex consigliere e assessore regionale Luigi Ribalta, scomparso lo scorso 6 novembre all'età di 82 anni. Dopo la comunicazione del Presidente della Giunta, è stato svolto un ampio dibattito sui fondi strutturali europei ed è stata approvata all'unanimità la mozione per chiedere che il Piemonte, in sede di conferenza Stato-Regioni, non firmi un'intesa e riapra la trattativa. Ragazzi in aula 2013 40 studenti delle scuole superiori del Piemonte per un giorno sono stati consiglieri regionali per la seduta di ragazzi in aula, che simula il processo di formazione delle leggi. Le sei proposte di legge presentate e discusse dai ragazzi riguardavano il bullismo online, i trasporti per gli studenti pendolari, le microcentrali idroelettriche, gli stagi formativi, gli studenti del settore aeronautico e le norme per regolare il gioco d'azzardo sul web. Premio Gianni Oberto 2013 Palazzo Lascaris ha ospitato la cerimonia del premio Gianni Oberto, assegnato per il 2013 a Elisa Tonda, Andrea Musazzo e Stefano Ghirardo, per le loro tesi di laurea che hanno promosso e diffuso la cultura piemontese. Nell'occasione è stata presentata la pubblicazione della tesi vincitrice dell'edizione 2012 di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa, una commedia inedita. Dal Lussemburgo al Piemonte Biografie e itinerari migrazioni, biografie itineraires migrations, scambi industriali italo-lussemburghesi nelle attività minerari e siderurgiche in Piemonte e Val d'Aosta tra XIX e XX secolo. E il titolo del volume è curato da Maria Luisa Caldognetto e Bianca Gera, edito dal Centro Studi Piemontesi, presentato a Palazzo Lascaris. Il presepe piemontese Al piano nobile di Palazzo Lascaris è esposto fino al 6 gennaio il presepe piemontese di Guido Moro, un classico presepe popolare dove, a fianco dei personaggi della natività, compaiono sia i pastori che i popolani nei loro costumi tradizionali. In questo presepe piemontese, oltre al recupero della figura di Gelindo, vengono riproposti sia gli ambienti tipici della montagna che i personaggi che la abitano. Non solo pastori, ma anche i margari, i falegnami, i boscaioli, le lavandaie echine sul fiume, ma anche i pasticceri di Alba che confezionano il torrone. Grazie per la visione!